Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Caso Santanchè, mercoledì parla in Senato, riferisce semplicemente perché non risponderà a nessun'altra sollecitazione, qual è la tua opinione? La mia opinione, il caso Sgarbi e il caso Santanchè non sono neanche poi così dissimili, nel senso che se uno vuole fare l'artista, se uno vuole vivere un po' da personaggio e non pagare le multe e non rispettare le regole, poi vediamo anche perché quando non rispetti delle leggi, le leggi sul lavoro, commetti anche dei reati, ma lasciamo un attimo da parte questo. Perché vuole fare il ministro, fare il viceministro? Perché vuole rappresentare le istituzioni, una persona che vuole vivere così? Perché la destra si fa rappresentare da persone che vivono così? La domanda che io però ti faccio successiva è, può essere un problema per il governo Meloni? Lo è già un problema per il governo Meloni, lo è già perché appunto sia che si decida di andare avanti così facendo finta di niente, sia che si decida di prendere provvedimenti o di assecondare diciamo una decisione o di agevolare una decisione della ministra, indubbiamente il governo è rappresentato da una figura che nel momento in cui andrà a parlare per esempio con gli imprenditori onesti del settore del turismo avrà la credibilità che avrà. Allora voglio sentire Anna Borselli però scusami Anna Borselli